in questo numero del salus tg migranti più vaccinati degli italiani e dall'italia 100 milioni in cinque anni per l'immunizzazione nei paesi poveri più longevi grazie al caffè tre al giorno riducono i rischi di morire nonna peppa operata a 114 anni nell'ospedale di padre pio i migranti arrivano nel nostro paese in generale in buona salute e sono più vaccinati degli italiani a spiegarlo il presidente dell'istituto superiore di sanità valter ricciardi al convegno no one left behind sulla salute globale molto spesso arrivano più vaccinati degli italiani perché lei pensi che in tanzania e in eritrea le coperture vaccinali sono al 98 97 per cento e la loro salute si deteriora qui comunque sia con l'operazione mare nostrum li abbiamo vaccinati tutti certamente il problema importante non possiamo accogliere centinaia di migliaia di persone e quindi dobbiamo avere io credo un approccio europeo ma qual è l'impegno dell'italia in questo ambito abbiamo garantito 140 milioni nel triennio in corso e forniremo al gavi che è l'altra alleanza per i vaccini mondiali 100 milioni nel prossimo quinquennio gli amanti della tazzina sono più longevi dei non bevitori e questo indipendentemente dal tipo di caffè scelto vale anche il deck e dalle modalità di preparazione ma anche dell'etnia del bevitore non solo i maggiori benefici se li assicura chi totalizza almeno tre caffè al giorno è quanto emerge da due nuovi e vasti studi pubblicati sugli annals of internal medicine operata con successo al seno a 114 anni nonna peppa al secolo maria giuseppa robucci considerata fra le donne più longeve d'italia ha superato un nuovo intervento chirurgico all'irx casa sollievo della sofferenza di san giovanni rotondo in provincia di foggia eseguito a scopo palliativo grazie alle sue ottime condizioni di salute grazie a tutti